E poi c'è un neppallone stato, è il gol, il gol del Pescara, il gol, il gol del Pescara, il gol del Pescara, è un sito, R per R, è finita, allo stadio di Trapa di Gheidamo, è finita, il Pescara è in serie A, il Pescara è in serie A, dopo 4 anni la formazione di Pescara è in serie A, dopo 4 anni la formazione di Trapa di Gheidamo, è finita, allo stadio di Trapa di Gheidamo, Pescara è in serie A, dopo 5 anni la formazione di Trapa di Gheidamo, è finita, allo stadio di Trapa di Gheidamo, A, dopo 4 anni la formazione di Trapa di Gheidamo, è finita, allo stadio di Trapa di Gheidamo, è finita, allo stadio di TV, Grazie a tutti!